Una donna è stata brutalmente investita da una Renault Laguna grigia mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Monza, quartiere dei musicisti. L'incidente è avvenuto martedì 23 gennaio alle 20.45 in via Milcare Ponchegli all'incrocio con via Pierluigi da Palestrina. La vittima, una residente del quartiere, è stata prontamente soccorsa da una pattuglia della polizia locale di Monza e dal personale del 118 che l'ha trasportata ad urgenza in ospedale con codice rosso. Al momento la sua condizione è critica e sotto prognosi riservata. Il conducente della Renault, un residente di Monza, è stato sottoposto ad accertamenti sul tasso alcolemico. Risultato positivo. Inoltre, di fronte agli agenti, non è stato in grado di presentare né la patente di guida né l'assicurazione del veicolo. La polizia locale sta ancora indagando sulla dinamica dell'incidente con ulteriori accertamenti in corso. Il procuratore di turno è stato informato della situazione. La Renault Laguna è stata sottoposta a sequestro in relazione all'incidente. Un'alto. Let's go. Asciutto. Come? Grazie a tutti.